Siamo a Sanremo, Radio Bruno Siamo contentissimi di avere qua ospiti negli studi di Radio Bruno una delle protagoniste indiscusse di questo festival Sanremo 23 che è Madame, ciao! Ciao! Come stai, come sta andando, come te la stai vivendo? Io sto bene, me la sto vivendo bene, tesa, ma è una cosa positiva Tu stai bene? Io sto bene, siamo tutti stanchi, però quella stanchezza costruttiva, non so, fine serata che dici bello, ho fatto una cosa bella, immagino tu ancora di più Sì, sì, no, quello sicuramente poi l'adrenalina è così costante che la notte si fa anche quasi fatica a dormire quindi ho progettato che la mia prossima dormita sarà direttamente domenica, sera, se riesco se no lunedì, tutta la settimana la impegnerò così Senti, com'è tornare sul palco dell'Ariston? È un palco che ci si abitua a vivere oppure sempre come la prima volta? Non so, io non vedo il palco dell'Ariston come qualcosa di così distante, così... Lo vedo molto familiare in realtà, quindi... non so, non lo vedo come un nemico, capito? Lo vedo come... e neanche come una sfida, cioè lo vedo proprio come un bellissimo posto dove ci sono persone che han creduto in me, quindi io sono lì per quello e sono molto grata di essere lì e prima... c'è tutta l'ansia magari prima di salire sul palco, poi arrivo sul palco e dico ah vabbè, ok, siamo qua all'Ariston, è un teatro bellissimo, adesso canto, devo fare quello quindi in realtà è veramente... è veramente bello, è veramente casa per me Sai che mi dici queste parole e se non fossi andata all'Ariston, che è stata la mia prima volta quest'anno, mercoledì sera e non avrei capito quello che stai dicendo, invece è proprio così, è un palco molto familiare perché lo spazio, a differenza di come uno si pensa sia la casa, è familiare, è piccolo, cioè... bello, è vero, è vero Siamo tutti vicini, tutti lì, poi c'è proprio una bella magia, capito? Nell'aria, quindi è veramente... veramente così L'hai sentito l'affetto del pubblico non solo dal... ovviamente dal palco, ma dico anche sui social L'hai sentito che è arrivato il messaggio che volevi mandare? Quello sì, ho sentito che il messaggio è arrivato e ho sentito che è stato apprezzato il lavoro che ho preparato in questi due anni cioè almeno il primo step del lavoro che ho preparato in questi due anni e questo sicuramente mi gratifica molto sono molto contenta e questo appunto è il primo passo, poi ci saranno anche tutti gli altri Certo, come hai pensato a questo brano e perché porti proprio questo messaggio? Ma guarda, io in realtà volevo portare un altro brano, spoiler volevo portare un altro brano un pochino più magari... non so, non so, è impossibile descriverlo però riuscirei a trovare le parole razionalmente però volevo portarne un altro, l'ho fatto sentire Adama mi ha detto hai qualcos'altro, allora gli ho fatto sentire il bene e il male che all'inizio non mi piaceva tanto Davvero? Sì, sì, non so neanche se volevo metterlo nel disco o forse nel disco sì lo volevo mettere perché sapevo che sarebbe andato bene però ero un po' indecisa e Adeus mi ha detto ma no, fidati, questo brano è la cosa giusta per te in questo Sanremo io gli ho detto guarda va bene Ma c'aveva ragione perché le classifiche Spotify sei altissima e classifiche del festival stai andando benissimo No, no, ma infatti io sono... Direi che c'aveva ragione Sì, ma io infatti gli ho detto guarda, gli ho detto fai tu i brani sono questi due, gli ho detto scegli tu, io mi fido di te comunque Ama ha fatto un bellissimo lavoro su di me nel 2021 ha dimostrato sempre di tenere a me, di volermi bene a livello artistico quindi anche quest'anno gli ho detto guarda, mi fiderò Ti fiderai per prendere una citazione da nostro brano Esatto No, no, a noi è piaciuto moltissimo e poi molto radiofonico tra l'altro e secondo me funziona bene Senti, cosa ti aspetti da questa sera o l'ultima serata? Non mi aspetto mai niente dalle cose ma non è una cosa triste Cioè io ho fede che andrà bene, ho speranza che vada bene poi aspettative, al solito parto sempre da zero quindi si può solo che salire Adesso oggi, cioè, è tutto da giocarsela stasera È da giocarsela, sì, stasera Stasera sì Bene, ma cosa vedremo? Qualcosa di diverso? Ah, un'altra cosa Devo farti complimenti perché Rumors insomma, tanti tanti commenti positivi sul tuo look Sei piaciuta tantissimo Quindi un restyling che ha convinto tutti Sì, l'hai scelto da sola È stato, non so, sei cresciuta poi in due anni È un'età per cui si cresce tanto Allora, ti dico È tutto un po' ispirato a un libro che ho letto anni fa Che è Lolita di Nabokov Ed è tutto un po' ispirato lì in realtà Io sono cresciuta chiaramente in questi due anni Ho trovato delle persone che fanno realmente al caso mio nel team Quindi dall'amica artist all'air stylist fino allo stylist proprio E poi Off-White mi ha dato una grandissima mano in tutto ciò E con questa costruzione del team siamo riusciti a portare avanti Quest'idea della Lolita Che un po' mi rappresenta, no? Perché è sia femminile, cioè quello che sono Quello che sto diventando, crescendo e tutto Sia rappresenta la mia età Cioè, giovane età, che comunque ho 21 anni E questo è un po' l'esperimento che ho voluto fare Ma dato che sento questo tema, questo libro molto vicino a me Sapevo che sarei riuscita a portarlo bene No, è arrivato quando sei arrivata la prima volta con lo stivale Con tutti, oh, ma da madame non ce l'aspettavamo, no? Con lo stivale alto, molto sexy, sensuale Però è un cambiamento che è piaciuto È stato accolto positivamente dal pubblico Poi questo è quello che ho sentito Io do qualche spoiler da dietro le quinte Sì, sì, anche io ho sentito che hanno apprezzato E nulla, noi ti auguriamo insomma un bocca al lupo Perché stasera è una serata importantissima Secondo me hai grandissime possibilità di posizionarti molto bene Poi non diciamo altro perché non vogliamo portare sfortuna E grazie di essere stata con noi Grazie a te, grazie di cuore Ci vediamo presto, spero in qualche tappa estiva Assolutamente, assolutamente A presto, grazie Radio Bruno In diretta dal Festival di Sanremo 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 In diretta dal Festival di Sanremo